Musica Gratteri saluta la Calabria, il 20 ottobre il suo insediamento a capo della Procura di Napoli. Oggi nella sede della Procura della Repubblica a Cattanzaro, alle 16 c'è stato l'incontro di commiato del Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, che dal 20 ottobre assumerà lo stesso incarico alla Procura della Repubblica di Napoli. Gratteri, dopo aver predisposto gli ultimi atti nel suo attuale ruolo di Procuratore di Cattanzaro, si prepara così al nuovo incarico di responsabile della Procura a parte enopea, che con i suoi nove procuratori aggiunti e gli oltre 100 sostituti è la più grande d'Italia. Gratteri subentra a Napoli a Giovanni Melillo, nominato un anno e mezzo fa Procuratore Nazionale Antimafia, in carico al quale aveva concorso anche lo stesso Gratteri. Il nuovo Procuratore della Repubblica di Napoli, che ha 65 anni ed è originario di Gerage, di Reggio Calabria, è in magistratura dal 1986. Il suo primo incarico è stato come giudice nel Tribunale di Locri. Nel 1991 è stato nominato sostituto procuratore sempre a Locri, quindi nel 1996 il suo passaggio alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, della quale è diventato procuratore aggiunto, nel 2009. Nel 2016 la nomina a Procuratore di Catanzaro. Gratteri vive sotto scorta da oltre 30 anni a causa delle minacce che gli sono state rivolte in più occasioni dall'Andrangheta, emerse da numerose inchieste. Inchiesta a Procura di Vibbo su presunti abusi bimba di 8 anni, indagato animatore di un villaggio turistico. È accusato di aver abusato di una bambina di 8 anni in uno stanzino di un villaggio turistico dove lavorava come animatore nella zona di Capo Vaticano ed è indagato a piede libero dalla Procura di Vibbo Valencia con l'imputazione provvisoria di atti sessuali su minorenne. I fatti risalgono alla mattina del 24 agosto e ieri la bambina, che quest'estate era in vacanza in Calabria con la famiglia originaria di Bologna, è stata sentita in forma protetta in un'udienza di incidente probatorio, chiesto dal PM Corrado Caputo e disposto dal GIP per ricostruire i fatti. I genitori della vittima sono assistiti dagli avvocati Maria Marone di Bologna e Giuseppe Aloi del Foro di Vibbo Valencia. I familiari hanno presentato denuncia. Secondo quanto ricostruito l'indagato, un 38enne di origini siciliane avrebbe adescato la bambina con una scusa, convincendola a seguirlo in un piccolo sfogliatoio dove l'avrebbe molestata. Quando la bambina si è resa conto di quello che era successo, ha avvisato i familiari e sono stati chiamati i carabinieri. La procura ha quindi disposto l'acquisizione delle immagini delle telecamere del villaggio e sono stati sentiti alcuni testimoni, gestori e altri dipendenti della struttura. Ieri la bambina è stata ascoltata con il supporto di uno psicologo e affiancata dai legali dei genitori e ha ripercorso quanto avvenuto. Nel frattempo l'animatore sarebbe stato licenziato. La mezza ha stalking nei confronti di una ragazzina, Cassazione annulla sentenze di primo e secondo grado, inizia un nuovo processo. Processo da rifare per un 42enne accusato e condannato alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ad una presunta condotta persecutoria prevista e punita dall'articolo 612 bis CP nei confronti di una ragazza minorenne lametina. La pluralità delle condotte, secondo l'imputazione, sarebbe avvenuta negli anni 2013-2014 e sarebbe stata caratterizzata, sempre secondo l'accusa, anche da condotte nei familiari della giovane. Il processo in primo grado era terminato a seguito di una lunga istruttoria con sentenza del 6 novembre 2019 del Tribunale di La Mezza Terme ed era stata combinata a BD la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione con condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Aveva proposto appello avverso la sentenza il difensore dell'imputato, il quale aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa in relazione alla trattazione del processo senza che all'imputato fosse stato consentito di partecipare al processo, oltre a diverse censure nel merito. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2023, aveva disatteso l'appello e confermato le statuizioni di primo grado. Ora quindi si è tenuto il procedimento in cassazione dinnanzi alla quinta sezione penale con la partecipazione per l'imputato dell'avvocato Bernardo Marasco e per le costitute parti civili dell'avvocato Caterina Berlingeri. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinviole le sentenze di primo e secondo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di La Mezza Terme per il giudizio. Uccise ex moglie nel crotonese, PM chiede condanna all'ergastolo. Condanna all'ergastolo per Alfonso Di Letto, il pensionato di 70 anni che l'8 marzo del 2022 ha ucciso a San Leonardo di Cutro l'ex moglie, Vincenza Ribecco. E questa è la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero Pasquale Festa, conclusione della requisitoria, nel processo che si sta celebrando davanti alla Corte di Assise di Catanzaro. Dopo la separazione, Di Letto aveva continuato a infastidire l'ex moglie. La donna si era lamentata con i parenti, ma non aveva mai presentato una denuncia per violenza o stalking. Alfonso Di Letto e Vincenza Ribecco si erano separati circa un anno e mezzo prima per le troppe incomprensioni tra i due. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e le persone, era andato ad abitare a Cutro, mentre Vincenza, che lavorava come stagionale nei villaggi turistici della zona, era rimasta a San Leonardo di Cutro, dove viveva con il figlio. L'8 marzo del 2022, Di Letto si è presentato per l'ennesima volta a casa della donna. Ha suonato al campanello, ha chiesto di entrare, ma l'ex moglie non gli ha aperto, chiedendogli di andarsene. Lui a quel punto ha preso la pistola, un'arma clandestina che aveva portato con sé, e ha sparato da dietro la porta a finestra, colpendo la donna al cuore ed uccidendola all'istante. L'arma, su indicazione di Di Letto, è stata rinvenuta dai carabinieri il giorno dopo in un fosso lungo la strada che conduce da San Leonardo a Cutro. Il prossimo 7 novembre ci saranno le conclusioni da parte della difesa di Di Letto, rappresentata dall'avvocato Luigi Colacino. Nella stessa giornata è attesa la sentenza. La Mezzia, presente denuncia dopo morte della madre, anomalie in tempi e modalità dei soccorsi. Un'anziana di 77 anni è deceduta all'ospedale di Catanzaro due giorni dopo essere caduta in casa ed essere transitata dall'ospedale di La Mezzia Terme, dove, secondo il figlio che ha presentato una denuncia alla polizia, non sarebbe stata soccorsa e assistita a dovere. Secondo quanto riferito nella denuncia, la donna nella giornata del 21 settembre è caduta a casa della figlia. Preciso, si legge nella denuncia, che mia madre, nonostante alcune patologie cliniche, è sempre stata lucida e autonoma, indicando ai sanitari del 118 i dolori e mostrandosi collaborativa. Giunta in ospedale, dopo una serie di controlli alla donna è stata diagnosticata la rottura del femore ed emorregia cerebrale da trauma cranico. Da qui, secondo il resoconto fatto dall'uomo alla postazione di polizia dentro l'ospedale, sarebbero accadute una serie di anomalie, sia nei tempi intercorsi tra la diagnosi e il ricovero, sia nelle modalità stesse dell'assistenza. Sta di fatto che l'anziana è stata in ultimo trasportata all'ospedale di Catanzaro, dove è deceduta due giorni dopo, e da qui l'iniziativa dei familiari di presentare denuncio per risalire ad eventuali responsabilità del personale sanitario di La Mezzia. Sequestrate due discariche abusive a Gioia Tauro, presenti anche rifiuti pericolosi e industriali. Nell'alveo di una più articolata attività, volta al contrasto dell'illecito abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, i carabinieri della stazione di Gioia Tauro, coadiuvati da personale del nucleo forestale Carabinieri di Cittanova, hanno sequestrato due aree che, per numero e tipologia di rifiuti presenti, avevano assunto la destinazione di discarica abusiva ed inquinante. Nello specifico, nell'ambito di servizi coordinati volti a prevenire illeciti ambientali, i militari sottoponevano a sequestro l'area insistente in una intersezione nei pressi di Via Ciambra del comune di Gioia Tauro, da tempo oggetto di deposito di materiali di scarto e una seconda area in zona Guardiola. Nel primo luogo sottostante al ponte Petrage, nei pressi di quel fiume, a poca distanza dalla sua foce, è stata realizzata una discarica non autorizzata e contenente rifiuti pericolosi, tutti completamente sparsi su un'area pubblica. Tra gli altri erano presenti rifiuti miscelati su un'area di quasi 300 metri quadri, sul terreno nudo erano presenti anche lastre di amianto, scarti di meccanica e autocarrozzeria rimossi da veicoli, rifiuti della lavorazione del legno, pneumatici di varia misura e grandezza. Nella seconda area, la discarica estesa per circa 150 metri quadri, è stata riscontrata la presenza di rifiuti di varia natura, tra cui pericolose lastre danneggiate di amianto o materiale di risulta proveniente da attività di demolizione edilizia. In entrambi i casi sono stati rinvenuti anche oggetti ingombranti, che sono stati illecitamente lasciati sul suolo pubblico. Sono messi in atto accertamenti ulteriori, finalizzati a verificare l'eventuale presenza di combustibili o oli esausti, che potrebbero avere inquinato il terreno circostante, soprattutto in presenza di eccessiva persistenza nel sito delle sostanze inquinanti. Il provvedimento odierno si è reso necessario per salvaguardare la salute pubblica della cittadinanza e dei terreni circostanti. Il primo cittadino del Comune di Gioia è stato nominato custode dell'area, in attesa degli accertamenti del caso da parte degli organi preposti e delle disposizioni dell'autorità giudiziaria di Palmi. Niente dimensionamento scolastico in Calabria, almeno per ora. In Calabria non ci sarà nessun dimensionamento scolastico, almeno per ora. Un emandamento al decreto caivano, prossimo ad approvazione, presentato da Fratelli d'Italia, partito leader nel Governo della Nazione, prevede la sospensione di questo provvedimento di revisione. A darne notizia è stato il senatore di Fratelli d'Italia, Ernesto Rapani, componente della Commissione parlamentare giustizia, confermando quanto già preannunciato nel corso della convention del centrodestra tenutosi a Corigliano Rossano lo scorso sabato 14 ottobre. Vi voglio comunicare quanto abbiamo fatto nella giornata di oggi in Commissione. A seguito di sollecitazioni pervenute da dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, hanno sollevato la problematica relativa al piano di dimensionamento scolastico che prevedeva l'accorpamento di istituti, con la perdita naturalmente di dirigenze e automaticamente la perdita di segreterie, quindi di personale amministrativo, addirittura accorpando scuole che probabilmente non hanno nessun legame tra di loro, né a livello strutturale né a livello infrastrutturale, e forse anche penalizzati da una viabilità perché distanti uno dall'altro. e faccio riferimento naturalmente a tutto quello che è successo nel caso specifico in Regione Calabria. Oggi con i colleghi, considerato che stiamo valutando il decreto Caivano all'interno del quale abbiamo previsto un'aderoga al parametro riferito al numero degli alunni, abbiamo ritenuto opportuno proporre un emendamento e prevedere l'aderoga anche per tutte le regioni del Sud così come previsto all'interno di Agenda Sud. Mi ritengo soddisfatto e ritengo che questo può essere un ottimo risultato. Fondi sugli atti intimidatori, risorse anche ai comuni. Ci sono 46 comuni calabresi, tra cui sopra i 15.000 abitanti, le città di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo, Valencia, La Mezzia Terme, Acri, Cassano all'Oionio, San Giovanni in Fiore, Isola Caporizzuto e la provincia di Crotone, tra gli enti che hanno ricevuto le risorse del fondo sugli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Grazie al Viminale, insieme al MEF e al Ministero dell'Istruzione, è stato infatti erogato il fondo per complessivi 6 milioni di euro relativo alle intimidazioni subite nel 2022. E quanto afferma il sottosegretario all'interno, Vandaferro, delegato agli enti locali? Questo fondo, aggiunge Ferro, vuole essere un aiuto concreto e un segno tangibile di vicinanza per le tante amministrazioni che sono state vittime di spreggevoli e vili atti intimidatori, spesso da parte della criminalità organizzata o di stampo mafioso. Si tratta di un'importante priorità che con il Ministro Piantedosi abbiamo fortemente voluto e su cui, fin da subito, abbiamo lavorato. Il Governo Meloni è al fianco dei comuni, dei sindaci e di tutti quegli amministratori che ogni giorno combattono contro l'illegalità e il malaffare. Sappiamo che non sono e non saranno mai lasciati soli. Per la provincia di Catanzaro vi rientrano i comuni di Catanzaro, La Mezzia Terme, Chiera Valle Centrale, San Pietro Ammaida, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio e Valle Fiorita. Giustizia, in Calabria, esame abilitazione avvocato resta a Catanzaro. L'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato resta a Catanzaro, lo assicura Antonello Tallerico, membro del Consiglio Nazionale Forense, il quale, anche nella sua duplice veste di consigliere regionale e comunale, ha lavorato affinché la prova rimanesse nel capoluogo, storica sede di corte d'appello. L'ipotesi di far convergere i circa 600 aspiranti presso l'aula bunker di La Mezzia Terme è stata scongiurata. Il comune di Catanzaro ha fatto un primo sopralluogo nel capiente struttura Ente Fiera, intitolata al Cavalier Colosimo e già utilizzata durante la pandemia come ab-covid. Mentre la provincia ha continuato a trattare con la dirigente dello scientifico Fermi, che ritoccando al minimo un calendario scolastico già approvato dal Consiglio d'Istituto, ha assicurato la disponibilità per tre giorni rispetto ai cinque, solitamente concessi. Una delle due strutture sarà di sicuro la sede per gli esami in programma, nella prima quindicina di dicembre. Cagnolino tra i rifiuti nel Regino, salvato e adottato da dronista che l'ha trovato. Questa è una storia lieto fine. Se guardate bene in questa immagine che ritrae una discarica abusiva, non ci sono solo rifiuti di ogni tipo, ma anche un cagnolino. È la storia che viene raccontata con un post corredato da una foto sul suo profilo Facebook dal presidente della regione Roberto Chiuto. La foto, aggiunge Occhiuto, è stata scattata oggi a San Procopio nel Regino. I nostri dronisti stavano monitorando il territorio e dopo aver rilevato l'ennesimo immondezzaio, a cielo aperto, non hanno potuto fare a meno di notare questo cucciolo che vagava da solo alla ricerca di cibo. Ma la parte bella di questa storia è che da oggi questo cagnolino ha una casa perché è stato adottato direttamente dal dronista che l'ha trovato. Sono orgoglioso, scrive ancora il governatore, di tutti coloro che stanno lavorando duramente nell'operazione rifiuti tolleranza zero. Lo sono per il lavoro che fanno, ma anche per le persone che ogni giorno dimostrano di essere, semplicemente straordinarie. Auto in fiamme sul lungomare Una lunga scia di fumo sul lungomare. Un'auto è infatti andata in fiamme a bordo una coppia di anziani che a cortesi del fumo ha lasciato la vettura, una Ford Focus e Station Wagon. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Rifiuti speciali bruciati in un terreno, settantenne denunciato nel Soveratese. Intensificati e continui controlli in materia ambientale da parte dei carabinieri di Soverato con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Davoli, anche a seguito del nauseobondo odore avvertito e segnalato da alcuni cittadini di Soverato, Montepaone, Montauro e Gasperina, nell'ultimo periodo. Nell'ambito di mirati e dedicati servizi espletati sul territorio, i carabinieri della stazione di Gasperina, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà la Procura della Repubblica di Catanzaro per combustione illecita di rifiuti un settantenne del luogo, il quale in un terreno di sua proprietà avrebbe bruciato rifiuti vegetali e speciali, ovvero sfalci e potature derivanti dall'attività agricola espletata. Il relativo procedimento penale penne nelle fasi delle indagini preliminari. Rifiuti abbandonati davanti alla scuola di Botricello, siamo al secondo episodio. Non ci sono parole davanti a questi gesti, solo tanta indignazione. Le parole di sdegno sono dell'amministrazione comunale di Botricello, guidata dal sindaco Saverio Simone Puccio, dopo che per la seconda volta sono stati abbandonati dei rifiuti di fronte all'ingresso della scuola elementare. Un gesto fortemente irrispettoso nei confronti della comunità e in particolare dei nostri bambini, aggiungono gli amministratori locali. Si sta visionando i filmati delle telecamere della zona. Se saranno individuati i responsabili, saranno applicate molte pesanti. Il monito proveniente dalle stanze municipali. Caro scuola, 16 milioni dalla Regione per sostenere le famiglie calabresi. I dettagli della misura. La Regione scende in campo per aiutare le famiglie calabresi a fronteggiare i rincari delle spese scolastiche legate all'acquisto di libri, ai trasporti, a tutto il corredo scolastico, attraverso un sostegno economico sotto forma di voucher erogato direttamente alle famiglie. È stato presentato questa mattina in cittadella regionale l'avviso pubblico per l'erogazione di borse di studio per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. La misura è stata fortemente voluta dalla vicepresidente con delega all'istruzione, Giussi Princi, la quale durante l'incontro con i giornalisti ha illustrato i dettagli dell'intervento. Staletti, lo statista Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, è entrato nella Casa Bianca negli Stati Uniti. Non finisce mai di stupirci lo studioso Domenico Condito che dopo la straordinaria serata dedicata alle scoperte sulla vita e personaggi che hanno contribuito a rendere universale il culto intorno al patrono San Gregorio Taumaturgo, ora veniamo a conoscenza di un vero e proprio fatto inedito. Ci vuole spiegare meglio il contesto di come nasce questa scoperta. All'inizio degli anni 60, quando a Staletti in Calabria la cementificazione selvaggia dei luoghi cassiodorei era ormai avviata, l'edizione principale del National Geographic, quella americana, pubblicava un servizio su Cassiodoro e il monastero di Vivario. Per la prima volta, al di fuori della ristretta cerchia della comunità scientifica, veniva divulgata a livello mondiale la grande importanza del monastero Cassiodoreo nell'ambito della trascrizione e produzione di codici sacri e profani. Attività che aveva permesso la trasmissione ai posteri della cultura classica e degli stessi testi biblici con la realizzazione della prima revisione critica della Vulgata di San Girolamo. Cosa ho scoperto in quest'articolo? L'articolo era intitolato Cassiodorus show guest trouge is monastery con riferimento all'illustrazione principale del servizio commissionata a un importante disegnatore raffigurante Cassiodoro che introduce nello scriptorium due viaggiatori in visita al suo monastero fondato a Schillatum, antico toponimo di Squillace. Il tutto faceva parte di un ampio reportage sui luoghi più importanti della storia medievale europea che venivano raccontati e illustrati e fra questi c'era il monastero Viva Riense di Cassiodoro era lo speciale di quel numero della rivista. Ci sembra di capire dunque che Cassiodoro ha avvarcato le mure della Casa Bianca sede dei presidenti degli Stati Uniti. Certamente questa è stata straordinaria scoperta all'interno dello stesso numero del National Geographic un articolo sull'incontro alla Casa Bianca fa il presidente degli Stati Uniti e il presidente della National Geographic Society direttore ed editore della rivista. Un fatto veramente straordinario il presidente Kennedy ha visto le foto del nostro Cassiodoro conoscendo la storia di questo territorio. Lo scopo della visita era la consegna al presidente americano delle prime copie della guida ufficiale della Casa Bianca realizzata proprio dalla National Geographic Society. Grosvenor aveva anche aggiornato il presidente Kennedy sulle attività e sui progetti della NNGS. All'incontro era presente anche la First Lady Jacqueline Kennedy. Il presidente Kennedy era un grande estimatore della prestigiosa rivista che riceveva regolarmente alla Casa Bianca e avrà sfogliato anche quel numero del National apprendendo così di quest'angolo remoto della Calabria e della sua incredibile storia. Un luogo che pur incrociando da sempre i destini del mondo ha finito col perdere il proprio. In nome del cosiddetto sviluppo turistico che da queste parti, seguendo logiche speculative, selvagge e poco lungimiranti, ha fatto più danni del terremoto del 1783 rubandoci storia, identità e futuro. Una scoperta straordinaria sapere che Cassiodoro con la sua storia ha avvarcato le porte della casa del più potente uomo politico del mondo. Un orgoglio ed un'emozione che ci fa sperare che oggi possiamo essere i protagonisti per scrivere una nuova storia di identità, valorizzazione e dignità per un territorio umiliato o offeso nella sua storia. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Squillace, gemellaggio con cerreto nella ceramica. Il confronto e lo scambio di conoscenze sono strumenti essenziali per competere in ambienti socio-economici sempre più centrati sulla conoscenza e sui saperi. A questa regola non può sottrarsi anche il mondo della ceramica artistica e ad attraverso l'Associazione Italiana Città delle Ceramiche ha organizzato un importante evento nella città di Cerreto, Sannita, provincia di Benevento. Nell'importante borgo campano, famoso per la produzione di ceramiche artistiche e tradizionali, si sono ritrovati sindaci ed amministratori di tutte le città famose in questo settore. Per il comune di Squillato, rappresentato dall'assessore alla programmazione e turismo, il sociologo Franco Caccia, un rinnovato impegno verso la valorizzazione del settore delle ceramiche. Nelle giornate del 14 e 15 ottobre, nella cittadina campana di Cerreto, Sannita, si è tenuto un articolato evento caratterizzato da un torneo interregionale di tornianti. Squillato era presente con i maestri artigiani, Beatrice Russomanno e Claudio Panaia. Quest'ultimo ha partecipato alla competizione, che prevedeva diverse prove, la realizzazione del cilindro più alto, gara vinta da Francesco Delia di Baronissi a Salerno, la gara tecnica con la realizzazione della ciotola più larga, vinta da Gaetano Branca di Carife a Vellino, quest'ultimo torniante, Irpino, che aveva vinto la gara di estetica a tema libero. I vincitori hanno ricevuto un premio in denaro offerto dalla Banca di Credito Cooperativo. Alla presenza di autorità politiche e religiose della provincia di Benevento, presso un palazzo storico di Cerreto, si è tenuta l'assemblea di sindaci delle città delle ceramiche con un costruttivo confronto sui futuri impegni. L'assessore Franco Caccio, nel richiamare le antiche tradizioni artigianali squillacesi, ha puntato l'attenzione sulla necessità di accompagnare la crescita del settore attraverso iniziative e che offrono formazione gestionale e nuove conoscenze per migliorare l'organizzazione anche attraverso forme associate di alcuni processi di produzione e commercializzazione. Le città presenti hanno donato al Comune di Cerreto dei pannelli decorativi che verranno utilizzate dalla cittadina campana per abbellire il caratteristico borgo. Un plauso per l'ottima riuscita dell'evento, l'assessore Franco Caccio l'ha rivolto all'amministrazione comunale di Cerreto e al promotore della manifestazione, dottore Lucio Rubano, vicepresidente dell'AIC ed è legato alla promozione delle città di antiche tradizioni e ceramista artigianale, ubicate nelle regioni meridionali. In un clima di grande e piacevole condivisione di idee e progetti futuri, amministratori comunali e maestri artigiani hanno fissato obiettivi e scadenze a breve e medio termine e rinnovato l'accordo per lavorare uniti e per condividere nuovi progetti di sviluppo della ceramica e delle economie dei rispettivi territori. Per due giorni Cerreto Sannita è stata capitale della ceramica dell'Italia meridionale. La cittadina cerretese ha ospitato 17 rappresentanze istituzionali di altrettante città della ceramica provenienti da ben 5 regioni del sud Italia per la sottoscrizione di un patto di amicizia che vuole essere presupposto per la creazione di un percorso comune di valorizzazione dell'artigianato, del territorio e volano di sviluppo e turismo. Ceramica artistica, veicolo di percorsi turistici e culturali per le città della ceramica del sud. Si riacchiude tutta in questa formula l'essenza di quello che abbiamo fatto oggi e cioè questo incontro fra le 17 città della ceramica della macroarea del sud che comprende le regioni dell'Abruzzo, della Campania della Basilicata, della Puglia e della Calabria che si legano ancora di più insieme per fare rete per uno sviluppo maggiore dei nostri territori per una promozione maggiore dei nostri territori dell'arte della ceramica che non è soltanto un fatto culturale ma deve diventare anche insieme a un fatto culturale anche un volano di sviluppo economico soprattutto per salvaguardare questa nostra tradizione ma per promuovere l'attività e per favorire la nascita di nuove aziende e quindi di nuova occupazione per i nostri giovani. Un evento a cui tenevamo tantissimo devo ringraziare l'amico Lucio Rubano mio delegato all'Associazione Nazionale Città della Ceramica l'amministrazione comunale che si è prodigata per far sì che questo evento riuscisse alla perfezione. Noi per quanto possiamo essere una grande città ormai nota e arcinota perché è capitale europea in realtà oggi abbiamo imparato tanto da questo piccolo centro ci sentiamo veramente uniti in questo percorso di amicizia perché siamo certi che la collaborazione in cui ognuno fa la sua parte può portarci lontano. L'obiettivo è sicuramente quello di rafforzare l'offerta del territorio sia dal punto di vista turistico ma anche poter inserire come elemento di identità da utilizzare anche per altre progettualità la ceramica artistica quale risorsa del passato che possa essere anche una leva per il futuro. A Chiaravalle continuano i progetti per lo sport Open Day con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro una giornata di vero sport con l'Open Day dedicato al mini basket presso la suggestiva palestra dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro di Chiaravalle grazie alla collaborazione tra la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro Maria Carmen Aloi e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Donato. Con la dirigente scolastica di Chiaravalle è un'iniziativa importante portare di più lo sport nelle scuole Sì, noi come scuola abbiamo aderito subito a questa iniziativa che è stata promossa dall'amministrazione comunale insieme al professor Francesco Gualtieri e riguarda appunto il coinvolgimento di tutti gli alunni anche dell'altro istituto su questo percorso di mini basket la scuola deve essere aperta a queste iniziative anche perché lo sport è uno strumento importante per la crescita armonica dei nostri ragazzi poi ci sono queste bellissime strutture per le quali ringraziamo veramente l'impegno dell'amministrazione comunale per cui non potevamo non aprirle al territorio e quindi anche a queste bellissime iniziative Con il vice sindaco Pinarizzo di Chiaravalle una bellissima palestra grazie al contributo della missione comunale il ringraziamento da parte della dirigente scolastica Sì, oramai come tutti sappiamo la scuola media è stata oggetto di un finanziamento che ha visto anche la realizzazione di questa bellissima palestra infatti io proprio adesso ricordavo con la dirigente che noi da piccoli ci si spostava presso le scuole elementari per fare educazione fisica è una struttura molto bella quindi non resta veramente che realizzare progetti progetti di sport e questo senz'altro che riguarda il basket è un progetto bellissimo io penso che lo sport in generale ha un valore educativo e formativo per i nostri ragazzi bisogna cominciare qui bisogna cominciare con le scuole bisogna cominciare da bambini a far capire ai ragazzi che non è la competizione in sé che ha il valore ma è il fatto di giocare insieme trovare nel gioco l'autostima l'autonomia ecco, la funzione dello sport che deve essere proprio quello aiutarli a crescere nel rispetto sia di se stessi e nel rispetto degli altri grazie alla dirigente che ha abbracciato questo progetto e la volontà naturalmente dell'amministrazione Donato che è sempre stata vicina sia alla scuola e anche allo sport in generale con l'assessore allo sport Isabella De Masi sempre presente sul territorio oggi una nuova iniziativa per quanto riguarda il mini basket qui alla scuola media di Chiaravalle il ringraziamento da parte della preside e complimenti da parte del vice sindaco di Chiaravalle Sì, oggi presentiamo il mini basket ai ragazzi più grandi come promesso nell'ultima manifestazione che Ciccio ha fatto qui con i più piccolini cerchiamo di mostrare una realtà che lo sport di squadra come il basket aiuta a crescere i ragazzi Ciccio cercherà con dei giochi oggi di coinvolgerli il più possibile per farli comunque partecipare il più possibile a questo sport Quanto è importante iniziare da giovani a partecipare a questo sport a inserirsi nel mondo dello sport? È molto importante già da subito anche perché dai cinque anni non si smette mai di imparare lo sport è molto importante perché comunque favorisce l'integrazione l'inclusione e le capacità motorie che si sviluppano già dai cinque anni Cresce questo progetto del mini basket a Chiaravalle dopo i più piccoli arrivano i più grandi Ciccio Guarda, noi hai detto bene tu intanto voglio partire con dei ringraziamenti a tutta l'amministrazione comunale dal sindaco all'assessore al vice sindaco e alla dirigente scolastica che ci fa entrare a scuola per delle iniziative penso valide quella di oggi è di un open day di mini basket nelle scuole medie ascoltiamo tutte e tre le classi facendoli giocare e divertirsi due ore cerchiamo di farli giocare tutti e conoscere il gioco del mini basket Cresce e cammina avanti va molto avanti il progetto su Chiaravalle noi abbiamo avuto una risposta importantissima per giorno 7 novembre avremo qui da noi nel nostro centro che l'ho voluto appunto chiamare Ionio Project per queste iniziative qua abbiamo con noi per una giornata intera il responsabile nazionale del mini basket Maurizio Cremonini la federazione sta svolgendo dei progetti camminare insieme va a visitare i centri di mini basket e a parlare con i genitori dell'importanza della valenza del gioco sport del mini basket a quest'età per i bambini soprattutto per una sana crescita quindi noi siamo onorati di averlo con noi al mini basket di Soverato del centro SD Andiamo Ionio Project il programma si svolgerà tra poco uscirà anche la locandina sarà la mattina presenteremo al teatro di Soverato il cortometraggio educare giocando due del progetto dello scorso anno che ripartirà adesso la terza edizione è veramente come non premio come regalo per la disponibilità per l'accoglienza per la gentilezza che hanno avuto la lezione in palestra la svolgeremo nei locali del Corrado Alvaro alla presenza anche della dirigente del sindaco e di tutta l'amministrazione quindi è un onore un vanto per Chiara Valle ma soprattutto anche per noi e per Soverato avere Maurizio Cremonini responsabile nazionale del mini basket quel giorno il 7 novembre a lavorare due ore in palestra con i bambini e ad incontrare le famiglie altri progetti in vista per Chiara Valle mi chiedi troppo perché con te è stata sempre una sfida nell'andare avanti io penso che per adesso ti sto battendo portando Maurizio Cremonini è il massimo il progetto inizieremo anche educare giocando tre e speriamo di portare avanti il lavoro per il bene dei giovani e dei bambini di Chiara Valle e della fascia ionica un'area fitness a Chiara Valle centrale in un luogo suggestivo quello della villa comunale un parco realizzato con il confinanziamento dell'Unione Europea PNRR sport e inclusione sociale a titolo gratuito quello ottenuto dall'amministrazione comunale a guida Domenico Donato con un solo obiettivo quello di migliorare il nostro territorio un'area sicuramente da far conoscere anche ai tanti turisti che trascorreranno le proprie vacanze nella cittadina delle preserre catanzaresi anche se c'è da migliorare la suggestiva location ma sentiamo la nostra intervista all'assessore allo sport Isabella De Masi grazie a questo finanziamento dell'Unione Europea avete realizzato quest'area fitness in questa zona suggestiva e bellissima Sì qui la villa comunale quest'area all'aperto che è un'area comunque accessibile gratuitamente a tutti è una il nuovo spazio all'aperto e rientra nella terza linea di intervento sport e inclusione del PNNR e quindi finalizzata appunto per un parco all'aperto per la promozione della pratica sportiva libera sport e inclusività sono dei punti molto fondamentali per noi dell'amministrazione comunale avete fatto quest'area qui in questo luogo che bisogna riqualificare comunque la villa comunale è una villa d'eccellenza possiamo dire che non ce l'ha nessuno un polmone verde Sì abbiamo iniziato da qui con la palestra appunto all'aperto e aspettiamo altri finanziamenti per tra cui questa è la riqualificazione facciamo dei piccoli passi alla volta Bisogna anche ripulire un pochettino la zona del materiale che è stato cacciato prima Sì certo questo stiamo già provvedendo e aspettiamo anche il bel tempo che ci aiuti anche perché ci sono anche altre cose da ripristinare lo stiamo facendo appunto piano piano Siccome è una zona un po' isolata c'è bisogno anche di una video sorveglianza caso mai Sì per quanto riguarda la palestra all'aperto facciamo buona fede diciamo ai ragazzi che verranno di farne buon uso perché è un peccato poi che vengano danneggiati comunque gli attrezzi grazie a tutti Grazie a tutti.